Una giornata intensa raccontata in diretta su Antenna 3. La storia, le emozioni, la fede della festa del Redentore di Venezia sono entrate nelle case dei telespettatori attraverso le nostre telecamere in quella che è stata la trasmissione del pomeriggio più vista tra le tv locali del nord-est. Le barche della regata del Redentore solcano il canale della Giudecca, poco distante dal pellegrinaggio di Fedeli lungo il ponte votivo che dalle zattere conduce alla Basilica Palladiana, costruita dopo la terribile epidemia di peste che nel 1500 provocò la morte di quasi un veneziano su tre. Il tramonto inizia ad allungare le ombre sulla laguna quando al termine della messa solenne il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, esce sul sagrato della Chiesa con il Santissimo Sacramento, impartendo la benedizione alla città e ai presenti. Constatando i primi fragili segni di ripresa, si celebra la festa sebbene ancora in un tempo chiaramente pandemico. Da oltre 18 mesi conviviamo con tale morbo che ci limita. La festa del Redentore è uno degli appuntamenti più sentiti dai veneziani, tanto da segnare il corso dell'anno quanto il Natale o il Capodanno. Una storia iniziata nel 1577 quando la città si liberò dalla peste ed allora sempre mantenuta e rinnovata, rivissuta e attualizzata attraverso le tante voci dei protagonisti che si sono susseguite nel corso della diretta di una giornata che ha assunto anche un profondo significato di ripartenza post-pandemico.